La nostra intenzione è quella di provvedere alla sottoscrizione di un'ordinanza che consenta di fare le cose che abbiamo detto. Quindi fino a nuove condizioni di superamento di questa emergenza, quindi intanto stimiamo circa una settimana. Università chiuse, scuole chiuse, manifestazioni sportive, manifestazioni che consentano alle persone di essere presenti in un numero numeroso, i teatri, tutti questi luoghi chiusi, visite ridotte nelle strutture di residenze sanitarie assistenziali, disinfestazioni la sera di tutti i mezzi pubblici. Tutte misure che ovviamente fanno parte di una condizione di emergenza nella quale si trova il nostro paese. Al momento i contagi sono a zero, nessuno, però oggi ci sono altri casi sospetti? Sì, i casi sospetti continuano a presentarsi, poiché questi siano realmente sospetti oppure no, speriamo che vada avanti così. Quindi è chiaro che le persone vivono in una situazione di difficoltà, l'importante è avere l'elemento della sintomatologia e poi oltre a questo naturalmente se ci sono state delle relazioni con delle persone che possono avere avuto o contatti o provenire dai paesi, delle aree colpite, anche se oggi dobbiamo anche dirci con altrettanta franchezza che il tema dell'origine della zona colpita ormai diventa di secondo piano. Quando ascoltiamo quello che abbiamo ascoltato nel comitato di emergenza, quando il presidente Zaia ci dice che per quel che riguarda le zone colpite del Veneto, dove addirittura si ipotizzava una zona rossa, tutte le persone di origine cinese sottoposte al test hanno dato esito negativo e purtroppo in quella zona c'è stata la persona che è morta di coronavirus. Quindi oggi anche il tema dell'origine cinese è un punto che va in secondo piano.